Bentornati alla notizia di Grande Fratello Bip. Oggi con le ultime notizie l'ichè. Alberto mette in guardia Edoardo che questa sera dormirà nel letto di fianco al suo con Antonella, stasera si dorme. Negli scorsi giorni Alberto aveva avuto un confronto acceso con Giaele accusandola di essere stata poco rispettosa nei suoi confronti per le chiacchiere notturne con Antonino che non lo facevano dormire. Questa sera, grazie al consenso di Eleonore di cedere il suo postoletto, Edoardo passerà la notte con la sua compagna Antonella nella stessa camera di Alberto, e quest'ultimo, pensando che possano far confusione esclama il suo disappunto e mette subito le cose in chiaro, non voglio sentire una parola, dice il giovane influencer con tono nervoso. Il bel conduttore già sotto le coperte vicino ad Antonella non ha intenzione di spostarsi, se io voglio dormire qua stanotte dormo qua, dice Edoardo con pugno fermo. Alberto stizzito dall'atteggiamento del suo compagno non vuole sentire ragioni, stasera si dorme. Edoardo e Antonella si abbracciano sotto le coperte e ridono un po' sotto i baffi per la reazione inaspettata del loro compagno. Riusciranno a rispettare il silenzio richiesto da Alberto o scateneranno l'ira del beat durante la notte? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.